Sal Genovese Questo è il lancio della nuova Ford Escort Un'auto completamente nuova Un fenomeno di potenza, un fenomeno di economia Un fenomeno di prestazioni con i nuovi motori benzina e diesel Tutta nuova nell'aerodinamica e negli interni Nuova Ford Escort è un fenomeno tutto da guidare Nuova Ford Escort scatta il fenomeno Via Cal, via il calcare con Via Cal Questo è il grigio opaco del calcare I rubinetti, le pentole, le cromature Il calcare le invecchia Per questo c'è Via Cal Con Via Cal basta una passata E torna subito lo splendore del nuovo Tutto è come nuovo Via il calcare con Via Cal E per l'igiene lo splendore del water Mister Verde Con Mister Verde via macchie Sporco nascosto Perfino la ruggine Sì, perfino la ruggine Mister Verde E Via Cal Sono prodotti Nelson In questo momento alla stampa a Torino, Roma e Catania Stiamo andando in macchina con le ultime notizie Con le tre pagine di economia Le due dell'estero Questo è importante I pezzi e le opinioni dei nostri 290 giornalisti e inviati E qui faccio una pausa Servizi in contemporanea con le mont... E The Times, mi sembra che vada Ah no, no L'importante è aggiungere che domani Con la stampa, come ogni sabato C'è tutto libri Il grande supplemento di letteratura Arte e attualità culturale Va bene, sono pronto? Guarda che abbiamo già girato Come abbiamo? Abbiamo già girato La stampa Molto più delle ultime notizie Beju 205 t-shirt 8 milioni 640 mila lire E fai di lusso È la prima volta che scopri o che provi Che assaggi la vita E ti senti così grande E allora incontri un gusto che è nuovo e come te San Pellegrino San Pellegrino È l'aranciata della prima volta La prima volta che Ti senti grande E allora incontri un certo